Un turismo un po' sottotono quello di quest'anno a Pesaro, giugno ha registrato scarsissime presenze, luglio un po' andato meglio ma gli albergatori sperano di fare il pieno ad agosto, come ci ha spiegato lo stesso presidente APA Fabrizio Liva. La città di Pesaro si conferma essere attrattiva per un turismo per lo più di tipo anziano e familiare, la pandemia da covid non ha fermato chi da anni torna ogni estate nella città di Rossini, sempre affezionato agli stessi alberghi e alle stesse spiagge. Ma sarebbe certamente azzardato affermare che la stagione turistica 2021 sia partita a gonfie vele, i tempi passati in cui Pesaro era popolata da turisti per tutta l'estate sono ben lontani, complice anche il virus e le restrizioni imposte per via di questo ancora in vigore. Come affermano gli stessi albergatori è stata quella di quest'anno una partenza lenta, anche se luglio ed agosto soprattutto fanno ben sperare, considerando che ci sarà anche chi, come spesso accade, deciderà di prenotare un soggiorno all'ultimo minuto. Anche la stagione 2021 si concentra tutto su agosto che comunque è il mese di tutti gli anni. È stato ipotizzato un ritorno delle marche in zona gialla, infatti per questo bisogna evitare gli assembramenti. Però al di là delle notizie diffuse dal popolo diciamo, ad oggi non è che ci sono arrivate disdette perché i giornali emettono che forse le marche passeranno al giallo. Luglio si sta riempiendo un po' alla volta, agosto abbiamo abbastanza prenotazioni, c'è la tendenza di prenotare anche per settembre, una cosa di questi tempi molto rara. Altra problematica quella della mancanza dei lavoratori stagionali, qui all'Hotel Promenad avete lo stesso problema? Assolutamente sì, nel cercare abbiamo fatto veramente fatica e nel frattempo ricevo telefonate dai colleghi che mi chiedono la stessa cosa, se conosco qualcuno. Insomma questo è un appello per chi cercasse lavoro all'ultimo minuto, tanti alberghi stanno cercando. Per agosto quasi tutto, sì, abbiamo qualche buchetto qua e là all'inizio, alla fine, ma la settimana di base di ferragosto è strapina. Io rispetto allo scorso anno, quest'anno possiamo dire che è andata meglio. Sì, per adesso sta andando meglio.